26 novembre 2022 avevo visto già prendevate appunti cosa stavate scrivendo? Certo Gigi, ci eravamo detti che ci saremmo rivisti per ringraziare tutte quelle persone che ci hanno aiutato per la giornata della salute. Perché io so che è stata una giornata eclatante e con un grande successo. Esatto, è stata una giornata straordinaria che praticamente la Yachts Club sia da San Bruno ha reso pane il numero di visse sono stati eccezionali, i risultati strabilianti. Per cui è giusto oggi salutare tutti i protagonisti e ringraziarli per il grande lavoro svolto e per tutto quello che ci è stato donato. Senta, diciamo chi sono queste persone? Certo, la lista è lunghissima quindi abbiamo dovuto prendere per forza degli appunti e ci scusiamo già in anticipo se abbiamo dimenticato qualcuno ma evidentemente abbiamo steso questa lista con Gigi ma evidentemente le persone che hanno partecipato sono tantissime. Intanto il ringraziamento va al governatore Scarpino e che ovviamente ci ha dato la possibilità quest'anno con un incarico importante di poter avviare alcuni importanti service come quello che è stato fatto a San Bruno. Il nostro presidente di circoscrizione Giorgio De Filippi che è stato qui dalla mattina già dalle sette, lui era qua con noi e ci ha aiutato nell'iniziare quello che dovevano essere i primi momenti della giornata. Ovviamente il presidente è responsabile del plesso della scuola di Spadola che ci hanno concessi diciamo all'istituto per poter fare questo importante evento. Il sindaco di Spadola Cosimo Damiano Piromalli e tutti gli amministratori che si sono legati a noi e che ci hanno dato tantissimo coraggio. Ovviamente la protezione civile avevamo un bel servizio d'ordine con il signor Tassone, con la signora Tassone e il signor Fazio che anche sotto la pioggia hanno continuato a lavorare. La polizia di Stato che è stata presente in maniera abbastanza discreta con i suoi uomini all'interno del plesso. Brognaturo del cuore, l'associazione che ormai da tanti anni opera sul nostro territorio, che ci ha fornito la prima colazione e quindi l'accoglienza ai medici che sono arrivati. La parrocchia di Simbario che oltre a farsi carico di poter dare un pranzo, un pasto caldo a coloro che non si sono potuti spostare durante il giorno dalla sede, ci hanno aiutato anche per la polizia e la sanificazione dell'istituto dopo l'evento. Quindi vorrei citare la signora Rita, la signora Maria, la signora Antonella, la signora Rita. Ovviamente i volontari. L'opera è stata così grande che abbiamo avuto bisogno di diverse persone che hanno fatto gli autisti, che hanno magari aiutato a spostare i mobili che ci hanno aiutato a portare dentro i macchinari, quindi il signor Luigi, Bruno, Domenico, Raffaele, Melania, Martina e tutti gli altri che in qualche modo ovviamente hanno partecipato. Abbiamo avuto degli sponsor, i nostri medici sono stati accolti, ristorati nelle strutture del posto, quindi un'agitazione particolare alla Coccinella, Villa Rosa, Trattoria da Rosa, l'agriturismo Forgi e Vecche, la Fontanella, Otto al Litro, la Taverna dei Balboni e ritrovo Santa Maria. Ovviamente anche i genti estetici che ci hanno fornito i loro lettini perché il numero di pazienti erano così tante che molto probabilmente non ci saremmo riusciti e anche i medici di base, quindi vogliamo citare i medici del territorio che ci hanno fornito questa attrezzatura, Regents 13, Incanto e Velvet. La tipografia Giuliano che ci ha assistito nella stesura dei vari manifesti, nell'organizzare tutte quelle che hanno la documentazione attinente alla giornata. Ovviamente l'azienda MedSystem, il signor Gregorio Fuoco, qui bisogna ovviamente fermarsi un attimino. Gli strumenti che sono stati portati per fare tutto quello che doveva essere fatto all'interno della scuola sono gli strumenti di altissima qualità. Non era facile avere questi strumenti, capirete bene che il loro valore economico è esponenziale, per cui va fatta questa citazione in particolare l'azienda MedSystem. L'Avis regionale, il signor, il dottor Rocco Chiriano, e doppia citazione qua, sia per quanto riguarda le attrezzature, sia per quanto riguarda quello che è stato il sostegno morale e l'aiuto fondamentale in quello che poteva essere l'organizzazione, le dritte per poter fare una cosa anziché un'altra in maniera corretta. Ovviamente tutti i medici, i primari, sia in pensione sia attualmente in attività, tutti gli infermieri e tutti quei medici che hanno sostituito i medici, perché voi dovete capire che se noi abbiamo avuto 41 specialisti a Spadola ce ne saranno stati altrettanti in un altro posto della Calabria che hanno sostituito queste medici affinché loro potessero essere con noi qua. Ovviamente il presidente Giuseppe Iannarella, il presidente del nostro club e i soci che non erano presenti, che ovviamente ci hanno sostenuto da lontano in maniera costante. Citazione ovviamente alla socia Anna Valente e al nostro caro dottor Leonardo Bertucci e ovviamente agli stancabili, chiamiamoli così, coloro che hanno lavorato 24 ore su 24 per poter realizzare questa cosa e il nostro caro Giuseppe Antonio Pupo, il nostro caro Francesco Andreacchi e Jessica Garcia. A loro vanno i miei ringraziamenti e il mio calore perché ho chiesto di fare qualcosa che era impensabile, ho chiesto di fare qualcosa che era al di sopra delle possibilità di un club così piccolo eppure loro con il loro lavoro sono riusciti a fare quello che era davvero possibile. Grazie, 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 grazie a tutti. Senta, progetti, programmi per il futuro dei Lions? Allora, il Lions di Sera San Bruno già da tempo sta lavorando su un'altra importante iniziativa e oggi Cigi colgo l'occasione perché da qui a poco ci saremo sentiti. faremo una raccolta fondi, una raccolta fondi per sistemare quella che è la pista di helio soccorso dell'ospedale di Sera San Bruno. Da tempo ormai le luci della pista non funzionano per cui si necessita sostituirle affinché gli elicotteri possano anche atterrare di notte. E inoltre ci sono delle novità. Nel tempo gli elicotteri che vengono utilizzati dal 118 sono cambiati. Oggi sono un po' più grandi per cui la pista avrà bisogno di una nuova area di atterraggio. Avrà bisogno dei lavori. Ecco, l'iniziativa dell'Alliance adesso si dirigirà subito verso questa importante iniziativa. Inizieremo l'accolta di fondi. I soldi da spendere sono tantissimi, si parla di circa 40.000 euro. Quindi chiederemo sia aiuto alla popolazione, sia aiuto ai comuni e a tutte quelle società e quelle aziende che vorranno darci una mano per poter far di questa pista fruibile a tutti quanti. Senta, per coloro invece che non conoscono i Lions e volessero far parte, che consiglio, che messaggio vuole dare? Guarda, i Lions generalmente sono delle persone che si comportano da Lions. Quindi ognuno di noi può essere Lions nel proprio animo e comportarsi bene con la comunità affinché sia Lions prima dentro di sé e poi sicuramente potrà ricevere l'invito un domani da qualcuno che è già all'interno. Per cui tutte quelle persone che oggi hanno fatto parte di questa grande importante iniziativa, tutti quelli che hanno partecipato, possono essere tra virgolette considerate le Lions nel cuore, nell'animo. Ecco, poi la selezione avviene in maniera diversa, però intanto il nostro grazie è la nostra vicinanza a tutti coloro che hanno avuto bisogno di questa iniziativa e la vicinanza a quelle persone che da questa importante giornata ne hanno tratto beneficio. Grazie a te Gigi, sei stata anche tu una persona importante perché hai diffuso quelle che erano le nostre iniziative, perché hai fatto in modo che arrivassimo a tutta la popolazione. Quindi un grazie anche a te Gigi per quello che fai ogni giorno per la nostra comunità.